Salve a tutti amici di TechDifferent, primo contest per vincere un invito per One Plus One e oggi facciamo l'estrazione, contest del 21, quindi domenica 21 settembre, estrazione il 22 settembre. Come prima cosa dobbiamo inserire la quantità di estrazione, quindi 1, partecipanti 5 e andiamo ad estrarre il vincitore è quindi Davide Francesconi.